Dalle prime luci dell'alba, personale della squadra mobile di Lecce, diretto dal vice questore aggiunto Alberto Somma, impegnato nell'eseguire il provvedimento restrittivo a carico di tre persone accusate di danneggiamento, incendio e tentata estorsione aggravata in concorso. I provvedimenti restrittivi sono scaturiti da un'articolata attività investigativa realizzata in brevissimo tempo con l'ausilio anche di presidi tecnologici. In particolare le indagini compiute hanno consentito di acclarare come i tre arrestati, Massimiliano Elia, 41 anni, Andrea Bisconti, 36 e Andrea Podo, 22 anni, tutti leccesi, si erano resi responsabili di tutti gli ultimi incendi e danneggiamenti e dei successivi intenti estorsivi avvenuti nel capologo salentino, in particolare il 22 dicembre del 2016 con il rimbenimento di due bottiglie incendiari all'interno del centro polivalente in costruzione nei pressi dello stadio comunale di Lecce. Il primo gennaio di quest'anno invece l'attentato incendiario e i danni di una tabaccheria di Viale Giovanni Paolo II a Lecce. Due mesi dopo l'attentato incendiario e danni di un cantiere edile di via Lupie, angolo via Bari e qualche giorno dopo il rimbenimento a San Donato di Lecce in via Pozzo di una busta contenente tre proiettili calibro 9x21. A seguito di questi eventi criminosi, anche grazie alla visione di alcune telecamere e di videosorveglianze ubicate nei pressi dei luoghi oggetto di indagine, sono stati raccolti elementi probatori a carico dei tre sufficienti a indurre l'autorità giudiziaria precedente a richiedere e ottenere i provvedimenti di custodia cautelare attesa l'estrema pericolosità degli indagati e il fatto che a seguito del danneggiamento della ditta edile è raggiunta anche una richiesta estorsiva di 50.000 euro. Particolare interessante è che almeno due degli episodi criminosi sono stati commessi a bordo di uno scooter Leonardo che ha fornito l'input per stringere il cerchio attorno ai tre arrestati. Nel corso delle perquisizioni odierne è stato rinvenuto anche lo stesso scooter abilmente occultato all'interno di un garage. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.